Per le fake news della propaganda atlantista mainstream, ieri è stata una vera e propria caporetto. La giornata era partita malissimo con lo scoop del New York Times. A uccidere Lady Dughina, la figlia di quelli che tutti i media occidentali all'unisono chiamano l'ideologo di Putin, sarebbero stati gli ucraini. E a dirlo non sono gli amici di Mosca, come sono etichettati tutti coloro che si permettono ogni tanto di dubitare dei comunicati del governo ucraino, ma addirittura l'intelligence usa. Ma su questa vicenda torniamo dopo, perché nel frattempo, nel pomeriggio, è arrivato un vero e proprio tsunami. Sicuramente avrete fatto caso alla notizia scandalo del giorno, la prova provata, finalmente, che paragonare Putin a Hitler e i russi ai nazisti non è un iperbole, è la semplice realtà. Come avrete capito parliamo di questa foto, pubblicata a martedì dal Ministero della Difesa ucraino su Twitter e riproposta fino allo sfinimento da tutti i principali media di tutto l'Occidente. Come spiega il tweet, ritrae una scatola ripiena di corone dentali d'oro che apparterrebbero a prigionieri ucraini torturati dai russi. Una mini Auschwitz, commenta il governo. Un vero e proprio invito a nozze. Ad aprire le danze ci ha pensato l'immancabile Bruno Vespa, russi come i nazisti, strappati i denti d'oro ai prigionieri ucraini. E stamattina tutti i giornali erano in un brodo di giuggiole. Kharkiv, denti d'oro strappati ai morti. Una mini Auschwitz, titolava il giornale. Sul libero l'accento invece era più sulla poraccitudine dei russi a raffoni. I russi rubano pure i denti agli ucraini, titolava. La stampa invece ha optato per un sobrio denti d'oro prelevati dai cadaveri. I russi come i nazisti nel lager. L'articolo è una vera e propria galleria degli orrori, con l'elenco di tutte le torture possibili immaginabili, a partire da storie di prigionieri sepolti vivi. E per le poche decine di persone che ormai un articolo del genere lo leggono fino in fondo, una specie di profezia. Mentre diversi casi sono stati verificati da fonti indipendenti, si legge, altri si sono rivelati esagerati o falsi, tanto da accostare il posto alla commissaria per i diritti umani ucraina Lyudmila Denisova, cioè quella che si inventava stupri seriali di neonati, che ovviamente la stampa riportava sempre sistematicamente come vere e proprie notizie verificate. Ma evidentemente l'esperienza è una cattiva maestra. E così è bastato aspettare il pomeriggio che ecco che arriva la figura di merda colossale. A sputtanare questa gigantesca pagliacciata ci ha pensato il tedesco Bild, gli unici che si sono recati sul posto e hanno cercato di capirci qualcosa. Gli unici che hanno scovato lui, il signor Sergei, l'unico dentista del villaggio. In 30 anni ho rimosso decine di migliaia di denti, ha raccontato, e quando sono arrivati i russi me li hanno rubati e alcuni vicini mi hanno detto che i russi li usavano per spaventare i prigionieri, ha dichiarato. La cosa buffa è che, come ha spiegato lo stesso Sergei, in realtà le corone non erano manco d'oro, ma di acciaio, ricoperte. Spararle più grosse possibili, da che mondo è mondo, non è una svista. È una tattica comunicativa precisa. Te tiri la fake news più grossa possibile nel mucchio, i più spregiudicati alla Bruno Vespa ci fanno i titoloni. Poi arriva la truppa di quelli che si danno un po' un tono di credibilità e ti dicono, ma no, ma queste sono esagerazioni. Però, e ti rivendono altre puttanate, giusto appena appena meno evidenti, come un resoconto equilibrato. Che è un po' quello che è successo con l'altro epic fade della propaganda bellicista mainstream di ieri, il caso Dughina. La storia probabilmente la conoscete già. 20 agosto è ormai sera, quando nel villaggio di Bolsheviasemi, a pochi chilometri da Mosca, si sente una grossa esplosione. È l'auto di Daria Dughina, figlia del noto filosofo Alexander. Entrambi avevano partecipato al festival Tradizione. Sarebbero dovuti tornare insieme, ma all'ultimo momento il padre è salito su un'auto diversa. I servizi russi attribuiscono subito la responsabilità agli ucraini. Ma si sa, se lo dicono i russi, è per forza una cazzata. Tanto più se gli ucraini, che anche se sono in guerra non mentono mai, smentiscono. Come ha fatto prontamente Mikhail Podoliak. Non siamo uno stato criminale, a differenza della Russia. E sicuramente non uno stato terrorista. L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin. E come dubitarne? Ed infatti ecco i titoli italiani il giorno dopo. Repubblica. Dietro ai killer non c'è lo stato ucraino. Il sistema Putin è fragile. Ancora più perentorio panorama. I mandanti della bomba contro Dugin e Putin non sono a Kiev. Fan page. Quest'attentato fa solo il gioco di Putin e degli estremisti del Cremlino. Ma il premio a sto giro lo vince Italia oggi. L'assassinio della Dugina è un diversivo del governo russo per stringere a sé i molti russi contrari alla guerra in Ucraina. Altro che omicidio compiuto dai servizi segreti ucraini, si legge nell'articolo. La morte di Darya Dugina sembra sempre più portare ad un'azione di depistaggio interno. Un modo per deviare l'attenzione dal sostanziale fallimento della campagna militare ucraina. E visto che la s'allunga, spiega pure il perché. L'obiettivo infatti sarebbe rinforzare il patriottismo nazionale e il senso di appartenenza messo sempre più a dura prova da tanti mesi di guerra e dalle sanzioni internazionali. Motivo per cui autorevoli ambienti del deep state russo avrebbero dichiarato al nostro attento cronista che non sarà certamente l'unico e l'ultimo episodio del genere. Ora è vero che nello specifico questo articolo potrebbe non fare testo visto che l'autore Marco Antonellis si confonde spesso anche quando in ballo non ci sono i russi e l'Ucraina. Ad esempio il 2 aprile scriveva elezioni fratelli d'Italia cerca un nome alternativo a Meloni e spiegava che anche se il centrodestra vincesse le elezioni e il suo fosse il primo partito della coalizione la Meloni potrebbe non arrivare a sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi. C'è un net da parte di Washington. Ma anche il livello delle argomentazioni e delle altre testate diciamo non è che sia molto più scrupoloso. Caprarica ad esempio è intervenuto per primo a pochissime ore dall'attentato dagli studi di Rete4 durante il prestigioso programma di approfondimento giornalistico controcorrente ad oggi ancora inspiegabilmente escluso dalle competizioni per il Pulitzer dove ha affermato che si trattava chiaramente di un attentato preparato dallo stesso regime di Putin alla ricerca di una sorta di nuova legittimazione per rispondere duramente all'Ucraina. D'altronde i pazzi dittatori sanguinari si comportano sempre così. Da che mondo è mondo? La storia è piena di episodi simili. Basti pensare all'incendio del Reichstag da parte di Adolf Hitler. Anche Fanpage usava le stesse identiche argomentazioni che poi uno si chiede anche ma scusa ma se dovete scrivere e dire tutti esattamente le stesse puttanate non potete fare un giornale unico che così invece di metterci cinque ore la mattina per fare la rassegna stampa in mezz'ora me la levo. Comunque secondo Fanpage si tratta appunto di un'operazione false flag che come sappiamo fanno solo i russi. Quando dici che l'hanno fatta gli americani entra automaticamente nel registro dei complottisti terrapiattisti. La morte della Dughina fornisce alla Russia di Putin proprio quel che ancora le mancava l'immagine di un sacrificio muliebre la sua Giovanna d'Arco scrivono. D'altronde Dragosei sul Corriere ci ricorda che durante la guerra con la Cecenia furono attribuiti ai servizi russi degli attentati per alzare la tensione e dare a Putin l'occasione per scatenare ritorsioni immediate e violentissime. Insomma ce l'hanno di vizio da secoli. Come scrive formiche.net da Ivan il terribile a Stalin a Putin le trame e le congiure del Cremlino non finiscono mai. Ma il punto vero adesso è che se gli attentatori sono riusciti a piazzare una bomba sotto l'auto del plurisorvegliato Dughin significa che sono in grado di colpire ancora e in alto. Su questo punto gli fa eco di nuovo pure fanpage secondo la quale ben che vada come minimo si tratta di una bella figuraccia dell'intelligence russa. Ma perché all'intelligence russa gliene sarebbe dovuto fregare così tanto della figlia di Dughin? Ma perché Dughin non è uno a caso è l'ideologo di Putin. Anzi non solo l'ideologo come dice Dragosei proprio il padre spirituale che però a ben vedere Putin non riesce a tenere al sicuro sotto la sua ala protettiva da un po'. Il partito nazionale bolshevico che aveva fondato infatti è stato sciolto con la forza dalle autorità russe. Dughin inoltre è stato cacciato da numerose università ed è ormai da tempo sostanzialmente sparito dai media almeno da quelli che contano. Ma soprattutto non si è mai vista una e dico una foto di Dughin e Putin insieme. Mai. Insomma su questa storia della Dughina ognuno ha avuto totale libertà di dare pieno sfogo alle sue fantasie più perverse. Fino appunto a mercoledì scorso. A sganciare la bomba come abbiamo anticipato è stato il New York Times. Dietro l'assassinio della Dughina ci sono gli ucraini. Parola dell'intelligence USA titolava. Che poi a me quando succedono queste cose mi fa sempre troppo ridere che non c'è mai qualcuno che dica raga scusatemi non ci avevo capito un cazzo. Ora studio un po' e poi vediamo se riesco a prendere qualche musata in meno. Voglio dire in 25 anni di giornalismo io di musate ne ho prese più d'una ma quando è successo l'ho ammesso ma proprio serenamente. E poi ho cercato di capire dov'è che avevo sbagliato e ho provato a prendere qualche contromisura. E qui dov'è che sbagliano ma proprio tutti 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 è piuttosto chiaro. 1. Putin non è Hitler e i russi non sono i nazisti. Quando fanno qualcosa di brutto 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 perché lo fanno. Non è perché si sono annoiati di giocare alla playstation e cercano emozioni forti. È perché gli serve a qualcosa. Mica dico a qualcosa di buono ci mancherebbe. Semplicemente a qualcosa di comprensibile. Di razionale. 2. In guerra tutti dicono cazzate. I russi, gli ucraini, gli svedesi, i maori. Se mai esistito un governo che non le diceva e non ci credo manco morto. Comunque a quest'ora non esisterebbe più. Perché chi ha il cinismo di dire le cazzate, cioè tutti, a quello che non ce l'ha e vive nel suo mondo petaloso, semplicemente lo asfalta. Quindi direi che sta storia che qualsiasi cosa che dicono i russi, a prescindere è una cazzata e qualsiasi comunicato che arriva dagli ucraini, anche il più inverosimile, non c'ha manco il bisogno di essere verificato, avrebbe abbondantemente rotto i c***o. Qui semmai la cosa vera da capire è perché? Perché l'Intelligence e il New York Times decidono proprio ora di sganciare questa bomba? Come la storia del dossier sui finanziamenti russi ai partiti, anche questa ha chiaramente i connotati del classico avvertimento a mezzo stampa. L'articolo infatti fa morire dal ridere. Invece che una sequenza di informazioni, è un elenco di tutte le informazioni che mancano. I funzionari americani non hanno rivelato quali elementi del governo ucraino credono abbiano autorizzato l'operazione, chi ha portato a termine l'attacco o se Zelensky abbia o meno autorizzato in prima persona l'operazione. I funzionari inoltre hanno richiesto di rimanere anonimi. Insomma ne so più io del mistero di Stonehenge o dell'isola di Pasqua che loro di com'è andata la storia della Dughina. Ma questo benedetto messaggio quindi in cosa consiste e a chi è rivolto? Facciamo che a questo giro vi lasciamo con una piccola nota di ottimismo. E se gli americani di tutta questa intraprendenza ucraina si fossero cominciati un po' a rompere i coglioni e puntassero una volta tanto a calmare un po' i bollenti spiriti? Lo so, sembra fantascienza e probabilmente lo è. Ma diciamo che se quando i nostri giornali sovrainterpretano le poche informazioni che hanno è sempre per immaginare un escalation del conflitto, ecco io a sto giro mi prendo la libertà di sovrainterpretare quel pochissimo che sappiamo per immaginare qualche morto in meno nei prossimi mesi. Ogni tanto per sopravvive tocca sognare. Soprattutto adesso che sono appena uscite agenzie che cominciano a ventilare l'ipotesi di un incontro tra Putin e Biden nell'ambito del prossimo G20. Per trasformare i sogni in realtà però ci si deve anche mettere un po' di impegno e quindi ora che forse qualche spiraglio timidamente comincia ad aprirsi è proprio il momento per rilanciare con sempre maggiore convinzione l'idea di una mobilitazione larga e plurale che chieda un cessate il fuoco immediato e la convocazione di una conferenza internazionale di pace sotto l'egida dell'ONU. Ed è anche l'ora di fare tutti gli sforzi possibili per creare il primo media che se manda qualche avvertimento è solo in nome dell'amore che alla fine vince sempre. Aiutaci a costruirlo anche tu. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe. Troverai tutti i link nei commenti e nelle bio. Ottolina TV. Comunque vada sarà successo. Ahahahah.